Da poco, professor Anastasia, insomma questa è la vicenda che tutti abbiamo letto sui giornali e chiaramente c'è un'inchiesta in corso, però il quadro che emerge è un quadro più che preoccupante. Le chiedo subito un commento su questa vicenda. Ma è un quadro preoccupante perché è un quadro, quello di cui sappiamo, e che si è trattato di un uso, come è stato detto, come è stato scritto, sistematico della violenza. Ed è questa la cosa preoccupante. Non l'episodio di violenza, ma il fatto che fosse un regime. Poi di questo si può discutere, se fosse necessitato e da cosa, e quali sono i rimedi. Però l'idea che all'interno di un'istituzione dello Stato, che ha un delicato compito, che è quello, come sappiamo, rieducativo, viceversa ci possa essere un uso sistematico della violenza, questo è veramente inquietante. Io credo che di questo bisogna discutere per capire, ovviamente i magistrati, gli inquirenti accerteranno le responsabilità individuali, questo non spetta a noi. Però per capire cosa è necessario per prevenire situazioni di questo genere. Perché queste cose non devono succedere. Uno dei temi, lo affrontava anche Paolo Maggiore nella sua corrispondenza, è quello del sovraffollamento delle carceri. Immediamente in Italia quanti detenuti in più rispetto alla capienza ci sono? Poi andiamo da Gennadino De Fazio. Rispetto alla capienza regolamentare effettivamente disponibile, noi al momento abbiamo 14.000 detenuti in più, a livello nazionale. Che sono più del 20%. E questo significa circa il 20% in più rispetto alla capienza effettivamente disponibile. Gennadino De Fazio, segretario generale UILPA, polizia. Andiamo solo a sostenere carriere criminali in crescita. Il suo punto, professore Anastasia, su questo, poco prima della nostra pubblicità. Beh, la prevenzione si fa certamente, come diceva prima il dottor Del Greco, con la presenza sul territorio delle forze di polizia, ma si fa innanzitutto nelle azioni di recupero e di integrazione sociale nelle periferie a cui è dedicata questa nostra trasmissione. Perché se non si lavora lì, il risultato è poi che le azioni devianti ci siano, l'istituto penale per minori, soprattutto per i più svantaggiati, diventi in qualche modo una necessità e quindi poi la funzione dell'istituto finisce per essere soltanto di contenimento e non rieducativo. Allora, intanto salutiamo Massimo Pisa della Repubblica. Dottoressa Carlini, grazie anche a Massimo Pisa della Repubblica Milano per essere stato con noi. Chiudiamo con la vostra opinione in studio. Professore Anastasia, Antonio Del Greco. Sì, appunto, ai ragazzi va data questa possibilità di integrazione, di relazione per anticipare tutti i fenomeni di esclusione e di devianza. Poi vorrei dire, perché siamo partiti dal caso del Beccaria, bisogna dare opportunità di formazione, di consapevolezza anche a chi opera dentro queste strutture. Uno dei problemi che noi abbiamo avuto in questa vicenda è il problema della formazione del personale di polizia. Lo hanno detto loro stessi, guardare, e loro devono essere consapevoli di essere parte di un sistema che ha nella finalità rieducativa, nel reinserimento, il suo scopo principale. Questo è fondamentale per dei poliziotti che lavorano nell'ambito della giustizia penale. Infatti è proprio questo il discorso che va fatto.